musica ma mi sembra che il terzo gioco sia tutto centrato su buck alla fine ma cos'è adesso un written game dove devo farli dormire niente paura piccoli l'amico di mamma li farà stare tranquilli detto così l'amico di mamma suona malissimo sid comunque no dai non attenzio scusami per qualche arcana ragione non mi hai fatto vedere i comandi ma ok è proprio uno shooter adesso vabbè in realtà sai che forse oh cacchio allora non c'è neanche l'automira è un po' difficilotta eh è un po' difficilotto come livello ah ok per prendere le cure devo fare così il bra di polsparalimpo il bra di polsparalimpo cretina lasci in pace i cuccioli a parte che come faccio io a sapere dove sono i cuccioli mamma mia ma una carneficina sto livello per fare sto livello davvero è il modo più semplice per farmarti soldi per gli altri livelli assurdo prendiamo i piccoli no ok ma che è difficile prendere questi qua volanti eh questi qua volanti sono difficilotti oi 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 dove vai fermoli tu lasci stare i piccoli che poi è davvero più facile spammare piuttosto che tenere premuto ma basta smetti a disputare ok più di così non spara quindi continuerò dov'è dov'è vai 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 uccidi 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 ok è andato ah proprio per avere il oh ok vabbè in realtà non lo sapevo io prima ho ucciso l'altro per pura fortuna ma stai buono ma è difficilissima sta roba se fai come me che spammi dio mio è è distruttivo per il dito sta roba c'ho c'ho il dito e la mano devastati aiuto qualcuno mandi aiuto sai cosa servirebbe il turbo adesso io di solito nei giochi il turbo dico non serve mai non serve veramente mai questo potrebbe essere una delle prime volte in cui dico cazzo il turbo servirebbe tantissimo stai buono tu ma a parte a volte da dove spunta sta gente qui c'è gente che al mattino deve lavorare mamma mia ma abbiamo fatto una quantità di punti incredibili eh certo magari in realtà non sono neanche tantissimi però cavolo oh no è facile questo questo è stato facile e le radici adesso lo mangia se avrei bisogno di me sarò qui adesso se lo mangia lasciami dormire andiamo a giocare dai andiamo a giocare andiamo a giocare adesso se lo mangia inizio a sbrannare aiuto andiamo a giocare